Mi chiamo Evelina Palumbo e sono da sempre appassionata di musica e danza. La scoperta dell'Empan è avvenuta direi in maniera quasi casuale. Infatti nel periodo della pandemia, un momento in cui eravamo tutti in casa a reinventarci, ho iniziato a fare una ricerca sulla danza popolare bugliese più famosa al mondo, la taranta, con l'intento di poterla abbinare alle danze orientali che studio e pratico da diversi anni. È stata in quell'occasione che mi sono imbattuta in questo strumento meraviglioso. Per questo ho iniziato a fare ricerche e ho scoperto i benefici che apporta nell'organismo e da qui l'idea di poterlo utilizzare anche nella scuola in cui lavoro, dove mi occupo dei ragazzi diversamente abili. Questo mi ha portato a scoprire la scuola di Battiloro. La scuola di Battiloro offre l'opportunità di effettuare corsi individuali e di gruppo. Io ho scelto la forma individuale, ma anche i piccoli gruppi sono, diciamo, facilmente gestibili in quanto i maestri possono seguire tutti gli allievi nel miglior modo possibile e quindi anche persone come me che non hanno mai studiato musica, si possono avvicinare a questo strumento. Battiloro offre una vasta gamma di strumenti realizzati completamente in maniera artigianale, di finitura molto pregiata e alla portata di tutti e anche in base alla diversa preparazione di studio. Io ho scelto Persefone che da subito mi ha colpito dal suolo magico intenso anche per le note ombrose nascoste. Ringrazio Battiloro per avermi dato questa possibilità e ringrazio anche il mio papà visto che è l'ultimo dono che mi ha fatto. Grazie a tutti.